Oggi pubblichiamo il nuovo bando per la festa della Befana. La festa della Befana 2017 è diversa dagli ultimi anni, che vedeva una qualità molto bassa, pacottiglia e altre cose che nulla hanno a che vedere con Natale e con i bambini. Quest'anno, con questo nuovo bando, abbiamo fatto le cose in maniera un po' diversa. Innanzitutto, dei criteri di qualità. Il 80% dei punti andranno ad operatori di altissima qualità. Prevediamo anche delle norme sull'ambiente, quindi gli operatori dovranno riciclare i loro rifiuti, dovranno occuparsi di smartirli, le luci saranno a basso impatto ambientale, per cui quest'anno potremmo veramente dire che la festa della Befana è tornata a quella di una volta. Questa Befana sarà una Befana all'insegna dei bambini. Molte più attività per i giochi, i presepi, i dolciumi di Natale, proprio per i bambini. Avremo 48 banchi di commerciali e artigianali, avremo dei spazi anche per le onlus, dove abbiamo previsto la possibilità di operatori dalle zone terremotate per venire qui a Roma, per esporre le loro merce, per dargli una mano. Quindi sarà veramente una Befana all'insegna della solidarietà e divertimento. Un vero bando natalizio, all'insegna della qualità, aperta ai operatori di tutta Italia. Ci diamo appuntamento qui a Piazza Navona il 2 dicembre.